Ciao a tutti ragazzi, primo contatto con gli Skyzone e Acine Cobra X. In questo video andiamo a vedere il contenuto della scatola, alcune curiosità, le differenze con la versione Cobra S, questa è la versione di fascia più alta. Siamo su circa 180€, in particolarità abbiamo il Rapid Mix come modulo, ovvero lo stesso modulo che è presente negli occhiali di fascia più alta degli Skyzone. Abbiamo la possibilità anche di avere la compatibilità con il sistema Shark Byte, per chi volesse provare tra virgolette il sistema digitale di Fatshark. E niente, detto questo andiamo a vedere il contenuto della scatola. Allora, schermo LCD fra le caratteristiche tecniche, risoluzione più alta, questa è la prima differenza rispetto ai Cobra S, abbiamo una risoluzione di 1280x720 con un FOV di 50 gradi. Allora, qui abbiamo il manuale delle istruzioni, vedo già in inglese, diciamo abbastanza semplice, abbiamo tutta la leggenda con i pulsanti, il contenuto della scatola e quello che ci potrebbe interessare per appunto configurare la prima volta gli occhiali. Allora, andiamo a vedere direttamente gli occhiali, ok, tanto qui sono da aprire. Allora, qua già vedo che abbiamo il bioadesivo per le varie mascherine. Allora, allora, anzi facciamo prima questo, poi vediamo con calma gli occhiali. Allora, qua dentro vediamo cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo tutta la cavetteria, allora questo per collegarli forse alla tv, questo non lo so, però qui abbiamo tutta la cavetteria che poi dopo andremo a vedere. Ok, qui abbiamo le antenne, delle antenne lineari, ok. Ok, ovviamente noi andiamo a metterci delle altre antenne, poi qui abbiamo anche il cavetto di alimentazione. Allora, vi ricordo la particolarità che possiamo alimentare con una batteria 18650 oppure con le classiche lipo da 2S fino a 6S. Allora, vediamo qua. Allora, intanto vi dico le principali differenze con i Cobra S. Allora, le principali differenze appunto sono la risoluzione che vi ho detto, la possibilità di switchare in 4 terzi e in 16 noni, quindi se abbiamo cam in 4 terzi e in 16 noni, dalle impostazioni potremo switchare. Mentre con la versione Cobra S non potremo farlo. Quindi, riepilogando qualità superiore degli schermi e possibilità di switchare in base alla cam che utilizziamo. Allora, ok, altra caratteristica, vedo che nei Cobra S hanno solo l'inglese e il cinese, mentre nei Cobra X hanno 10 lingue. Dopo andremo a vedere se magari c'è anche l'italiano. Allora, andiamolo ad aprire il contenuto. Ok, allora qui in mano, allora qui abbiamo, ecco, le mascherine che vi stavo dicendo, che dopo andremo ad applicare. Allora, qui abbiamo altre mascherine che andremo ad applicare, mascherine e qui abbiamo la fascetta. Allora, ok, ok. Allora, vediamo la qualità costruttiva di questi Skyzone e Acine. Allora, qui, ok. Diciamo che adesso perché sto facendo il video, ma di solito sicuramente sono più rude. Allora, ok, ok, ok. Sono curioso di provarli. Allora, noi andremo a provarli con lui. Ho già fatto qualche modifica, qualche anticipazione. Adesso non vi faccio vedere più di tanto, però andremo a provarlo con lui. Ok. Allora, vedo già. Allora, perfetto. Allora, me li immaginavo più grandi, eh. Non è che sono grossissimi. Anzi, giusto per farvi vedere una differenza per chi avesse gli Acine EV800DM. Allora, in realtà forse sono anche più piccoli rispetto agli Acine 800DM. Allora, vediamoli un attimo, così, anzi, eccoli qua. Allora, qui in realtà anche il buco per vedere sembra più piccolo, però dopo diciamo che vanno provati. Allora, ok, ok. Allora, qui stavo dicendo che abbiamo il vano batteria per la 18650. Sono curioso di vedere con una batteria di 18650 quanto possiamo fare. Qui abbiamo l'uscita HDMI, abbiamo la microSD da inserire, abbiamo il cavetto AV, abbiamo l'alimentazione, qui. Allora, qui non lo so cos'è. Qui abbiamo il cavetto Type-C, un punto probabilmente per fare gli aggiornamenti firmware. Allora, quindi la scritta qui abbiamo è Acine e Skyzone. Ah, ok, perfetto. Così, vedete che è la prima volta, mi sono appena arrivati gli occhiali. Allora, qui abbiamo il modulo qua dentro che ho visto che se noi smontiamo, vediamolo, guardate ragazzi, se noi lo smontiamo qua dentro abbiamo il modulo. Allora, in realtà non so se si toglie come... Ah, però, ragazzi, ragazzi, osta, qua possiamo mettere anche un altro modulo in linea teorica. Allora, io adesso non li ho, però non lo sapevo sta roba qui. Quindi noi molto probabilmente possiamo utilizzare anche magari un Rapid o altri moduli. Però diciamo che questo, guardando le prove e le recensioni, già funziona molto bene. Ok, andiamolo a rimettere dentro. Perfetto. Allora, qui abbiamo i vari pulsanti. Oh, questa. Abbiamo una ghiera in metallo per spostarsi nei vari menu. Abbiamo qui il pulsante per registrare. Abbiamo il pulsante menu, accensione e spegnimento. Oh, queste qui dovrebbero essere molto comode come rotelline per spostarsi nei menu. Allora, vediamo qui se si smonta qualcos'altro. Però volevo smontare il discorso della 18650. Allora, 18650. Come si toglie? Non volevo spaccare tutto. Subito, eccolo qui. Ok. Allora, perfetto, ragazzi. Guardate, qui abbiamo il vano 18650 che poi in realtà possiamo andare a provare. Vediamo se... Ok, perfetto. Sono curioso di vedere perché così andiamo ad 3 virgolette. Se durassero molto, sicuramente è ottimo sapere che possiamo alimentare così gli occhiali. Anzi, andiamo a vedere l'accensione. Vediamo se è vero. Ok, perfetto, ragazzi. Possiamo vedere in anteprima qualcosa. Allora, ottimo. Allora, qui adesso non so se si riesce a vedere. Allora, visto che ci siamo. Allora, tanto qui cos'è successo? Sul visore, allora, metti a bat voltage. Ecco, infatti è basso. Allora, questa sinceramente ce l'avevo un po' fermo. Non so se era carico o meno. Allora, andiamo a prendere una che in teoria dovrebbe essere carica. Vi faccio vedere al volo, visto che ci siamo qua, così veloce. Allora, vediamo. Allora, anche perché però io non so come si fa a fare l'auto search veloce. Allora, vediamo un attimo se andiamo in menu. Allora, in menu. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Ok, in menu. Qua non si riesce a vedere tanto. Head tracking, image. Allora, per spostarci, come si fa per spostarsi? Ah, ok, abbiamo detto qua. Ottimo. Adesso qui non so se si riesce a vedere. System, DVR, eccetera. Allora, io volevo capire un attimo. Anzi, qua si è spento. Ok, perfetto. Ottimo. Allora, andiamo a cambiare un attimo la batteria. Ok, ragazzi. Siamo andati a prendere la power bank. Lo colleghiamo, così abbiamo appunto la ricarica. Mentre stiamo utilizzando gli occhiali. E adesso, ovviamente, adesso l'abbiamo portata al minimo. La batteria, adesso qui avremo il messaggio. Però adesso vediamo se si spengono o meno. Perché intanto stiamo caricando gli occhiali. Allora, eravamo rimasti alla ricerca. Vediamo se teniamo premuto cosa succede. Se andiamo ad effettuare un'autoricerca. Allora, devo capire come funziona l'autoricerca. Allora, proviamo a spingere questo o questo. Vediamo se tengo premuto. No, non è questo. Ah, ok. Bastava premere. Perfetto. Allora, intanto vado a prendere il drone. Ok, perfetto. Allora, mazza. Allora, riproviamo un attimo. Ok. In poche parole dovete tenere premuto questo pulsante per qualche secondo. E poi ripremere per effettuare la ricerca automatica. Allora, vediamo se riusciamo a beccare l'immagine. Così vediamo un attimo la qualità. Eccoci qua, ragazzi. Allora, direi che si vede da Dio. Allora, vediamo. Ok. A me sembra che si vede veramente bene. Allora, sono curioso di provarli perché a me veramente sembra che... Vediamo, eh. Guardate qua. Si vede molto, molto bene. C'è un po' di confusione. E niente, dai. Ci siamo riusciti a provare almeno qualcosina. Allora, con la powerbank sembra che non abbiamo problemi con la batteria. Quindi, ottimo. Quindi, utilizzando anche una powerbank che molto spesso è più comoda di una lipo, possiamo utilizzare i nostri Skyzone. Niente, dai, ragazzi. Questa è una piccola anticipazione. Ovviamente dovremo vedere tante altre cose. Andiamo a spegnere i nostri occhiali. Infatti adesso è sparito anche il messaggio battery low. Ok, intanto si stanno caricando. E niente, adesso è tempo di provare il tutto, di riportarvi le mie impressioni. E noi ci vediamo col prossimo video. Ciao. Ok, ragazzi. Concludo il video facendovi vedere una volta montato il tutto. Allora, io adesso ho messo due antenne così al volo. Purtroppo non ho patch, però le rimediamo. Allora, qui ho montato le due mascherine sopra e sotto. In realtà sono tre pezzi. Allora, ho già provato l'ergonomia molto, molto buona. Almeno per la mia conformazione del viso. Allora, per i più attenti hanno visto che io ho messo questa fascia che avevo sui DJI. Allora, la trovo più comoda. Comunque gli occhiali stanno su molto bene. E li ho già provati e non vi nascondo che ho già fatto un primo voletto. Vi lascio un DVR veloce. E niente, gli occhiali sono di ottima fattura. Il DVR penso che venga registrato anche molto bene. Si vede molto bene. Sono curioso di vedere il range test perché vorrò provarlo con una patch e appunto questo dronino con una VTX da 350mW. Per il momento abbiamo già scoperto diverse cose. Si alimenta con la powerbank e se abbiamo la 18650 oppure utilizziamo una lipo. Molto comode queste levette. Io al momento ancora non avevo girato nei vari menu. Però diciamo che è tempo di qualche minuto. I menu sono molto intuitivi. Infatti siamo riusciti già a registrare, a cercare il canale e fare appunto le varie operazioni principali. A cercare il canale e fare appunto le varie operazioni principali. A cercare il canale e fare appunto le varie operazioni principali. A cercare il canale e fare appunto le varie operazioni principali. Grazie a tutti.